e dovremmo essere online allora nostro personaggino il mio personaggino in effetti ci saluta ho avviato il solito cronometro mi avvicino al microfono così mi sentite forte e chiaro ok sesto streaming sul canale youtube di telecom e sulla pagina facebook dell'iniziativa operazione risorgimento digitale oggi è mercoledì 20 maggio 2020 puntuali come sempre alle ore 11 io sono sempre marco vigellini per fortuna ed anche il mio canale youtube continua a chiamarsi sempre a scuola con minecraft come le sessioni precedenti ovviamente siamo arrivati al nostro penultimo incontro e se non vuoi perderti le nostre prossime novità ti ricordo di seguire proprio il mio canale youtube a scuola con minecraft a questo punto brevissimo riassunto delle sessioni precedenti perché anche oggi non ve ne andrete prima delle ore 2 scherzo però insomma andremo probabilmente lunghi però vedo che questa cosa non vi dispiace attendiamo chi si sta agganciando solo in questo momento cosa abbiamo fatto nelle sessioni precedenti con minecraft c'è qualcuno che se lo ricorda io mi ricordo innanzitutto benissimo tutte le vostre costruzioni minecraft che mi avete restituito che mi state restituendo e che come al solito andremo a vedere anche oggi sempre più interessanti che mai allora dicevo sessioni precedenti breve riassunto un viaggio in mezzo ai colori di mondrian è stata la nostra prima sessione di un mese e mezzo fa pensate dalla piramide di cheope nella pancia della sfinge si dice la pancia della sfinge non lo so comunque siamo andati a finire all'interno della sfinge fino ad arrivare al palazzo del faraone d'egitto e questo è il viaggio che abbiamo intrapreso nel nostro secondo incontro al calduccio all'interno di un vulcano passando per cave di diamanti e miniere di carbone è il terzo viaggio che abbiamo fatto per sfuggire ad alcuni pillager il quarto incontro ci ha visto salvare da un incendio la famosa biblioteca di alessandria d'egitto e sistemare anche il suo famoso faro tra l'altro è considerato era considerato anzi è sicuramente considerato una delle sette meraviglie del mondo antico i villager avevano avuto la brillante idea di cambiare il corso della storia ricordate poi partendo questa è l'ultima sessione che abbiamo fatto mercoledì scorso partendo su un piccolo ponte pericolante per fortuna non abbiamo dovuto affrontare le dodici fatiche di ercole ci è andata sicuramente meglio dovendo in affrontare solo sei però tra guerrieri spartani e tragediografi greci per ridare luce alla torcia olimpica in qualche modo rubata dai villager dai soliti villager abbiamo dovuto scomodare posedone e zeus con i suoi fulmini nella sessione appunto di mercoledì scorso spero che il nostro balletto tribale invece venga presto dimenticato ora mi domando cosa accadrà oggi vorrei davvero trovarmi in un posto senza tanti pensieri senza pillager intorno e con la possibilità di divertirmi e basta è una richiesta impossibile secondo te? vediamo allora intanzitutto nuova piccolissima attivazione dal nostro percorso usuale come fatto la volta precedente mi avete chiesto in tanti quando verrà rilasciato il mondo minecraft bedrock che sto costruendo e la mia risposta non può che essere quando lo finirò intanto in tanti avete indovinato l'ambientazione e questo non può farmi che piacere in quanto significa che l'ambientazione è stata resa riconoscibile per chi non avesse visto il video dell'ambientazione è quello che sta scorrendo in questo momento e come vedi sembra essere ambientato in una delle città più riconoscibili al mondo la città di Venezia il suo territorio lagunare e tutto ciò che ruota intorno a questa città come detto rilascerò il mondo gratuitamente per tutto il mondo minecraft console tablet smartphone eccetera per cui segui il canale youtube a scuola con minecraft clicca su iscriviti poi sulla campanellina per attivare le notifiche in modo da non perderti la comunicazione che farò quando il mondo sarà disponibile la sessione di oggi sono passati 5 minuti sarà indubbiamente carina direi di andare subito nella nostra aula del museo della scuola ormai della vostra aula perché l'avete riempita o finito le pareti soffitto insomma è rimasto il soffitto perché come al solito e grazie nuovamente alla vostra ampia partecipazione mi avete mandato ancora tanti vostri capolavori e messaggi di ringraziamento tra l'altro che leggo con piacere a questo punto tolgo questo video dovrei essere in minecraft con manuel michela patrizia eccoci qui a questo punto direi di cliccare la nostra solita consueta campanella di cui oggi ho alzato anche il volume scusate il disturbo se fosse troppo troppo forte allora dobbiamo andare da tutt'altra parete questa è la nostra aula minecraft computer mattoncini lego puzzle e qua ci sono i vostri capolavori che vado brevemente scherzo a riassumere allora mi metto in f1 così non vedete neanche il mio bel cursore allora luciano quarta e plesso castellani nettuno roma allora ha costruito vi ricordate il tema era i greci allora ha costruito la sua casa all'interno di un tempio greco ok questo bianco che vedete qui sotto poi ha costruito due case di due villager vedete che sono differenti e li ha bloccati come avevo fatto vedere ottimo lavoro luciano poi clarissa benminucce quarta d sempre di nettuno roma plesso castellani ha costruito la sua ambientazione in stile greco con dei colori veramente azzeccati anche ricostruito le famose colonne con lava ed acqua che in molti in molti avete apprezzato più una statua con luminite al seguito con il braccio che viene avanti complimenti clarissa poi c'è che era nettuno andiamo avanti no scherzo che quanto sono cattivo quando mi ci metto allora che era ha fatto un mix interessantissimo ovviamente base in stile greco più una casa in stile moderno con tanto di tettoia però sempre utilizzando il quarzo ottima idea poi si è ricostruita il suo personaggino in stile diciamo steve con i capelli da femminuccia qua luna mi raccomando il tuo autografo non ti dimenticare di me il suo capolavoro a mano della grecia bravissima guarda sono proprio senza parole senza parole anche per il parkour di Diego di Latina molto complesso riparte da questo il punto di partenza mi sembra che mi abbia scritto e si arrampica su questa enorme statua vedete i blocchi celesti che dovrebbero persi anche qua intorno ecco i blocchi celesti fino a raggiungere insomma la cima della della sua costruzione poi ha utilizzato le torce della chimica colorate per creare uno smile ottima idea poi c'è Francesco che come al solito velocissimo anche se questa volta mi sembra che è arrivato un po' di lardo Francesco poi c'è Giorgio Quinta B Plesso Marconi Lauria Potenza allora ottimo lavoro Giorgio perché ha costruito alla fine l'ho detto e l'ho riuscita a riprodurla una fontana con colonna grega e una fontana a 45 gradi un miscuglio pazzesco poi la sua diciamo casa costruzione patio in stile greco poi la sua bellissima statua inginocchiata a sorreggere la torcia olimpica e un bracere guardate che dimensioni con cui ha costruito questa questa costruzione poi il piccolo Lorenzo otto anni ha costruito delle cose carinissime in miniatura Lorenzo coglie al metauro peso urbino allora un piccolo tempietto tra l'altro l'ha personalizzato perché non lo avevamo fatto così quindi ottimo lavoro Lorenzo non dovete copiare dovete personalizzare con una torcia sopra la colonna e poi si è riprodotto con la sua cintura gialla di taekwondo è scritto anche Roma comunque è carinissima questa rappresentazione della cintura complimenti poi invece abbiamo la scritta Pompei di Mattia 9 anni Campobasso che mi ha scritto il papà che si è appassionato a Minecraft benvenuto nel gruppo siamo 200 milioni di utenti ottimo lavoro ha fatto un parkour pericoloso e anche veramente con tanta immaginazione perché vedete in fondo c'è la lava quindi io non vorrei cadere sotto diciamo in fondo a questo parkour e poi tutto intorno ha messo una serie di colonne greche ottimo lavoro Mattia poi Sara Sara Istituto Compensivo Gatto Battipaglia Salerno questo ovviamente è un capolavoro di colori di particolari veramente molto molto ben curati ha messo il prismarino in basso per dare l'effetto delle scale che scendono poi orizzontalmente ha utilizzato lapislazzuli esmeraldi poi blocchi d'oro di diamanti sulle colonne al centro c'è un bracere il tempio che sopra un altro tempio agli angoli sono dei fiori complimenti Sara Sara non so se sai come si tolgono le impostazioni qui questo suggerimento se fai ESC impostazioni vai su mouse e tastiera la quarta voce c'è nascondi suggerimenti se vuoi togliere poi qui capolavoro di Ryan scuola media scuola media bacica di Carasco Genova ha costruito che cosa la USS Constitution che è la nave più antica al mondo 1795 anno di costruzione e che naviga l'unica nave più antica al mondo che naviga e l'ha costruita Ryan ottimo lavoro tantissimo impegno perché è veramente grande questo guardate in basso è un maialino ottimo lavoro Ryan poi andiamo avanti Lorenzo Quarta Manziana anche lui ha fatto un miscuglio di tutte le cose che avevamo detto ottima sintesi quindi un tempietto al cui all'interno c'è una stanza poi sopra c'è un bracere con gli standardi e guardate i colori degli standardi quelli del logo degli olimpiadi chiamiamolo logo del simbolo degli olimpiadi più bracere al seguito acceso ottimo lavoro Leonardo futuro scienziato Allora Fernando Quintabin Marconi Lauria Potenza ci ha mandato le consuete colonne personalizzate quelle con acqua e fuoco la colonna classica poi un bracere personalizzato ottimo lavoro Fernando vi dicevo che queste colonne erano piaciute poi alle spalle ha fatto ma questo forse anche della volta scorsa credo il il portale del nether in a 45 gradi e non ci dimentiamo di salutare il fratello Luigi poi ultimo lavoro Daniel Quinta B Marconi Plesso Marconi Lauria Potenza anche lui ha colto la palla al balzo degli ultimi suggerimenti che ha votato veramente in dirittura d'arrivo a fine video questo mi sembra un tempietto che è diventato una enorme fontana ottimo lavoro Daniel qui addirittura un grande bracere capovolto molto molto importante e qui è un diciamo una statua devota immagino al dio del fuoco a questo punto direi di tornare velocemente tornare velocemente vittorio superato Patrizia vado più veloce no mi state superando questa è la nostra aula dove quello è iron man queste sono stampanti 3d minecraft eccoci qui allora a questo punto direi di fare un'unica votazione perché tanto io ho capito che voi siete furbi ho capito che boccerete come al solito vediamo un po' questa questa votazione di oggi via tutti e tre insieme niente bocciate non va niente eppure questa volta i ragazzi si sono meritati dei fuochi d'artificio allora a questo punto io passo alla questa schermata e mentre passo questa schermata io carico il mondo della nostra missione datemi due secondi di tempo per avviare il nuovo mondo e poi inizierò a parlare di quello che ci capiterà oggi ma sicuramente qualcosa di pesantissimo allora io ho avviato il mondo allora perché devo mettere questa schermata perché come al solito vi devo dire ovviamente mandate e continuate a mandare i vostri lavori che metterò all'interno del mondo minecraft della scuola abbiamo completato per fortuna abbiamo un'altra aula però continuate a mandarci perché questa sessione vi chiede delle cose particolari andiamo a vedere comunque segui comunque la diretta di oggi oppure quello che sarà la registrazione poi raccogli le una due tre sfide non mi ricordo più quante ne lanceremo rispondi costruendo qualcosa poi fai una foto di quello che hai fatto in minecraft con l'aiuto dei tuoi genitori mi mandi la foto più rappresentativa della tua costruzione e tramite messaggio diretto chiocciola marco vigelini su instagram per esempio me le invii io le ricevo incominciate anche a scrivermi quello che vi piace fare con minecraft se vi è piaciuto questo tipo di esperienza se vogliamo ripeterla perché mi state mandando tanti messaggi di questo di questo di questo tipo e a me fa piacere leggerli e le riporto poi agli organizzatori di questa diciamo iniziativa che ricordo essere operazione risorgimento digitale e a cui ha fatto nuovamente anche loro ovviamente piacere leggere che vi sia piaciuta e che vi sta piacendo oppure se ci dice che ci vuole dire che non vi piace ditecelo comunque perché a noi ci piace crescere e migliorare a questo punto direi di iniziare la nostra esplorazione io direi 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 di andare qua e io sono entrato hai ragione hai ragione hai ragione hai ragione mi sono dimenticato di una cosa ci siamo dimenticati di far partire il video quindi voi dicevate ma che cos'è sta roba qua e voi mi parlavate allora vi faccio rivedere quello che era successo era successo questo dice ma questi ma che parlate niente niente abbiamo preso delle macchinine queste qua ok le macchine minecraft ci muovono ci si muove ok stavamo in questo parcheggio rifacciamo tanto ho detto che oggi avevamo un po' di di cose da fare ok questa è una vera macchina minecraft ok e queste proveremo poi a costruire sul canale youtube perfetto allora io patrizia patente come al solito michela c'è là riandiamo dentro ok mi ero fermato a parlare con questo villager che mi ha detto che lui è il proprietario mi ha detto che i villager hanno danneggiato delle attrazioni labirinto farato giurassic park spider castle eccetera intanto mi prendo questo libro poi labirinto farato giurassic park a questo punto io direi di andare andare ma se sei la strada per esempio io ti posso seguire labirinto farato di qua ah ok quindi andiamo guardate quanto si cammina bene su queste macchine e non hanno bisogno di patente in effetti perché patrizia non ce l'aveva michela non ce l'aveva chiara l'aveva falsificata chiara sta ridendo perché voi non sentite lei però quasi stanno scoppiettando dalle risate ok allora manola ha parcheggiato con una deravata clamorosa allora labirinto labirinto fatato allora labirinto fatato andiamo a vedere innanzitutto mi sembra di aver capito che siamo in un parco di divertimenti per fortuna il mio desiderio si è avverato allora per i bambini sotto i 12 anni è previsto un robot guida il codice che si spiega al robot come percorrere l'ultimo tratto è stato cancellato dai villager raggiungete la zona di interesse e programmate la roboguida allora dai che ci vuole andare nel labirinto ai 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 allora io pensavo che il labirinto fosse un pochino più più fattibile per fortuna siamo in creativa qua ci sono mucche maialini persi io avevo letto un cartello che ci dice raggiungi subito la zona chiara è pronta beata te io clicco andiamo nella zona allora questa zona che confusione che c'è allora che c'è scritto qua ultima zona codice cancellato e poi qua qualcuno che si arrabbia ed ora come raggiungere la linea d'oro posiziona qui il robottino ho visto la linea d'oro allora voi esplorate dall'alto il percorso che deve essere fatto nel mentre io prendo questo robottino che vi racconto cosa è robottino che forse qualcuno ha visto probabilmente qualcuno no è disponibile per minecraft education edition la versione che io utilizzo con le scuole italiane e anche in minecraft bedrock però solo windows 10 ok vediamo che fa questo robottino poi ci sono delle mod per minecraft java se vi interessa scrivete sul canale del tipo mi interessa sapere come si mette una mod per imparare il coding ok per la versione java allora cosa dobbiamo fare qui dobbiamo far arrivare poi dritto dritto voi state scrivendo avanti a destra allora si dovrei dare dei comandi a questo robottino ma come si fa io 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 adotterei per non sapere nel leggere scrivere adotterei la soluzione quella per cui si esce sempre da un labirinto come si esce sempre da un labirinto allora si mette o la mano tutta a sinistra di una parete e non la si lascia mai si cammina vado a sinistra vado qui ok oppure si fa con la mano destra su una parete e non si lascia più quella parete se esiste un'uscita questa la troviamo allora io adesso voglio scrivere proprio del codice a questo robottino come lo scrivo labirinto labirinto gli faccio eseguire questo codice vediamo allora il coding è veramente importante ora ve lo racconto sto scrivendo un comando chat e l'ho scritto vai con la i non so se lo riuscite a vedere da codice perché non sto vedendo uno streaming comunque cerco di farlo velocemente poi eventualmente vi prendo una foto lo scrivo a questo punto velocemente e metto a questo punto io scrivo robottino ok si vede allora dico mentre mentre tu non hai trovato sotto di te un bel quindi logica quindi logica e ti dico allora caro robottino controlla se sotto di te giù agente controlla se il blocco giù è diverso dal blocco allora cicli mettiamolo velocemente facciamo una logica se è vero che l'agente logica 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 non ha trovato adesso ve lo faccio vedere abbiate pazienza allora blocca dove sta questo a sinistra quindi se non trova un blocco a sinistra quindi c'è spazio io gli dico agente tu gira a sinistra e poi vai avanti di uno vai avanti di uno poi duplico questa roba qui allora vai avanti così poi questo lo metto così ho quasi fatto quindi svolta a destra questo sta parlando da solo allora gli faccio mettere anche un bel fiorellino a terra allora quindi quando cammina posiziona dietro di te posiziona posiziona indietro tre comandi dovrebbero mancare uno due tre comunque il concetto è che ho fatto gli devo dare un bel un bel fiordaliso ok scrivo questo codice vai invio ok ok quindi qualcosa lo sto facendo fare ora mentre lui cammina io provo a vedere se riesco a farvi vedere questo codice perché devo cambiare questa schermatina qua vediamo un po' desktop uno vediamo un po' se io faccio ah non ce l'ho di qua ce l'ho di qua no non ci riesco ve lo manderò sul su instagram allora facciamo così ve lo manderò su instagram perché diversamente non sono riuscito allora che si è fermato no ok allora lui sta esplorando vedi sta andando avanti dice a sinistra c'è spazio sì allora giro e mi sposto a sinistra lui rimane sempre a sinistra fino a quando fino a quando ok trova tutti i percorsi quindi se per esempio avesse adottato la politica dell'andare a destra avrebbe percorso questo lato avrebbe fatto tutto questo giro poi tutto questo poi tutto quello alla fine sarebbe arrivato è arrivato? no si è fermato eccolo eccolo dai che ce la fai dai che ce la fai ti aspettiamo altre novità adesso ci aspettano in vediamo manual vediamo manual vediamo vediamo lui ha rilevato che sotto c'è un blocco e ha funzionato quindi a questo punto andiamo avanti con le costruzioni da riparare allora codice Jurassic Park codice manutentori noi siamo i manutentori siamo i i manutentori e che dobbiamo fare? codice Jurassic vediamo se avete mai visto questa cosa io scrivo il codice Jurassic firmo il libro lo butto per terra puf teletrasportati ci siamo tutti? si allora codice Jurassic andiamo a vedere cosa c'ha questa attrazione questo mi sembra un bel Luna Park ok sembra che questa roba non funziona ho letto qualcosa qui che abbina circuiti elettrici zona vi data ai non addetti noi siamo gli addetti possiamo entrare i due circuiti elettrici laterali garantiscono il funzionamento dell'intera attrazione il circuito 1 è danneggiato ripararlo facendo riferimento al circuito 2 questo è l'1 questo è il 2 dobbiamo costruire questa roba qui allora non funziona ok quindi dobbiamo dobbiamo cambiare il circuito e fare come in questo caso qui questo è il famoso concetto di costruire una leva un pulsante come una leva cioè se io clicco si disattiva se io riclicco si attiva allora mi vado a prendere il necessario pietra rossa ripetitore comparatore io mi prendo tutto vado a distruggere qua il tutto e incomincio a costruire lo sgancio faccio adesso ve lo spiego allora lo sgancio sputa qualcosa verso questa direzione poi mi metto in questo punto mi metto in questo punto e ho messo un altro sgancio che raccoglie questo e lo sputa in alto mi metto in questo punto faccio così questo sgancio raccoglie questo e lo sputa dove nella tramoggia finale io adesso sto volando così mi abbasso clicco ho messo la tramoggia ho fatto una specie di di circuito che si passa determinate cose gli metto soltanto un oggetto il blocco d'oro ok quando attivo mettiamoci poi il ripetitore così il segnale arriva là lui si accogge che qua dentro c'è una cosa ok se io lo tolgo questo si è spento lo metto dentro e se ne è accorto e manda il segnale quando io clicco questo segnale attiva lo sgancio il quale attiva anche questo questo gli spara una cosa e la mette da lui ok adesso il blocco d'oro è qua dentro ok eccolo qua e se è spento il circuito perché qua dentro invece non c'è niente lui se ne è accorto quando io clicco questo viene attivato lui lo spara in alto lo spara di qua questo scende e si è attivato il meccanismo così attivo così spento così attivo e adesso il compito più in grado andiamo a testare il tutto lo so che vorrete essere nei nostri panni ci siete chi è che state aspetta Manuel vai Patrizia ci siamo vai Michela ci siamo pronti vai 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 vediamo se funziona ok ci siamo Michela Chiara sono partite andiamo a fare questo viaggio allora dove siamo il tema era parco giurassico io soffro di vertigine lo dico subito anzi mi metto in F1 no però così non vedo i vostri commenti allora Patrizia Patrizia vedo che dà segni di di mal di stomaco eh aiaia guardate qui ok che occhioni che aveva quella lucertola o era un tirannosauro chissà una lucertola mi sembrava un po' troppo piccola discesa clamorosa questo pure non vorrei averlo nel mio giardino ok Patrizia io ti sto recuperando no non è vero siamo sempre esattamente alla stessa distanza Manuel è partito prima Chiara Michela ci sono comodo però far questo lavoro del manutentore delle giostre è sempre stato il mio sogno un brontosauro insomma comunque mi sembra il dinosauro che si chiama Dino dei Flintstone quello colorato di viola attenzione pure qua vediamo ci avviciniamo a questi dinosauri enormi meno male ci abbiamo girato intorno guardate quanto sono grossi rispetto agli alberi no ok sono immensi e pensate che questi piccoli esserini una volta funzionavano Manuel ha abbandonato qua c'è un tirannosa un triceratopo triceratopo evidentemente chi sta davanti viene sono uscito chi sta davanti vai vai butta butta spingi 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 il carrellino di Manuel ci ha interrotto ma io spingo è stato mangiato dal triceratopo in qualche modo allora allora comunque a parte il triceratopo o qualche pillager siamo arrivati a destinazione l'ha sputato ok possiamo andare nella parte seguente allora andiamo arrivederci grazie prego del giro direi di andare allora prendiamo un altro codice manutentore castello mi firmo questo libro castello stavo andando al castello state vicini perché altrimenti chissà se non funziona lancio buf teletrasporto ma come funziona questa roba magari se vi unite al canale youtube lo scopriremo insieme perché mi piace fare le cose per imparare insieme allora armatevi qua già non mi piace allora sala circuiti vedo ragnatele allora questi tre circuiti garantiscono il funzionamento dell'attrazione il circuito centrale è funzionante gli altri no quindi questo è il centrale questo funziona così questo è un doppio pistone retrattile allora me lo ricordo benissimo perché abbiamo fatto proprio di recente sul canale allora manuel e le ragazze magari ok manuel di là costruiamo questo aggeggio allora la prima cosa da fare è alimentare il blocco superiore in questo modo questo qua sotto lo rompo poi ci porto meno male che c'avevo la pietra rossa dietro ci porto la redstone direttamente sopra poi il secondo blocco da alimentare sarà questo questo lo già l'ho tolto ok e si mette un ripetitore indietro di 4 poi adesso vi spiego anche il perché dobbiamo alimentarli 3 volte in tempi differenti quindi il ripetitore serve per andare un po' più piano mettiamo il terzo percorso qui ripetitore indietro di 4 ripetitore indietro di 4 poi mi prendo questa qua non mi sono preso la leva faccio così aziono il tutto questo è diretto 1 2 3 spengo e tutto funziona finito ma non funziona perfetto lasciamolo così andiamo purtroppo a testare ma perché vi siete armati armatevi regole del gioco leggiamo 5 giocatori 2 arcieri e 3 paladini e noi abbiamo solo le patatine ma ci accontenteremo oppure sono loro che si accontenteranno di 2 piccoli arcieri va entrano prima gli arcieri ma non era prima le donne dopo essersi armati e seguono le indicazioni allora quando vengono catturati quindi già sappiamo che veniamo catturati questa roba qua ce la togliamo ci dobbiamo armare io prendo arco prendo un bel po' di frecce mi armo ma tanto siamo in creativa non capisco perché boh non lo so vabbè allora via io vado sono dentro no aspetta io torno perché c'ho paura ahhh niente Manuel raggiungete le postazioni da arciere saranno queste ah chissà ma io voglio andare in quest'altra ragni oh oh ma siamo in creativa vogliamo no Manuel mettiamoci alle spalle come no come fanno quelli che stanno alle strette ci mettiamo di spalle e ci copriamo due uno stiamo in creativa uff stiamo in sopravvivenza altro che fammi andare in postazione via 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 aia liscio liscio preso 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 aiuto 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 dicasi aiuto ah siete stati imprigionati verrà qualcuno a salvarvi boh allora io qua vedo una cosa allora chi ci sta salvando le donzelle ah finalmente le donzelle in azione ah vedi noi possiamo soltanto lanciare queste pallette di neve grande a massa queste donne è la prima volta che delle principesse salvano dei ranocchietti grazie alla grande vediamo se questa propria abbiamo ribaltato con minecraft vittoria grazie per aver giocato arrivederci ok saltiamo io mi butto qua bellissimo grazie principesse per aver salvato i nostri prego prego saluti allora andiamo avanti siamo ritornati in creativa che bello grazie grazie alle nostre principesse salvatrici meno male che c'erano loro altrimenti gli arcieri avevano fatto una figura direi barbina allora distributori datumobile prendiamo distributori che prima non avete visto me ne prendo una e vado io seguo Manuel Manuel ma tu questo è qua il pilota aspetta vediamo se ci siamo tutti sì ci siamo tutti e dove hai parcheggiato Michela allora vai Manuel ti seguo via interavata via t'ho superato questa volta allora dove stiamo andando io sto seguendo dei cartelli strada obbligata old wild west allora parcheggiamo qua parcheggiamo qua mi sembra che ci sia spazio questo mi piace questo già mi piace bello sheriff office guest service bellissimo che c'è scritto qua che c'è scritto allora indicazioni per la riparazione lungo il percorso ci sono molti bersagli in movimento tutti i bersagli a eccezione di questo sono stati ah questo è quello che funziona riparate ah ok allora voi fate una cosa questi sono voi incominciate a a a montare il tutto perché io a ripararli ci metto direi pochino non lo so quanto ci metto però vedo che qua per esempio questo questo binario non è alimentato quindi io ci metto un bel binario alimentato distruggo questo poi dove è andato lì ok faccio quest'altro qui e poi ovviamente nella parte della costruzione vi racconterò un po' come funzionano i binari questo se lo spingo non va adesso che è acceso via bersaglio mobile allora si voi incominciate che belli venite venite con questi cavalli io vi ecco vi riprendo da questo qua come se fosse una scena di un film bellissima questa scena fortissimo ma saltate pure con i cavalli vai ok allora io finisco di riparare questi voi intanto divertite ah questo questo mancano proprio tutte le le leve io attivo attivo questa non l'ho attivata qua deve essere tutto attivo altrimenti il binario diciamo frena il binario scusate il carrello aziono tutto adesso arrivo ragazzi che vi voglio vedere mentre lanciate i vostri le vostre frecce e poi bisogna ripeto testare le nostre questo l'ho avviato vai pure te che sbatti con quella vediamo un po' vai te guarda là come andate occhio che chiara che cadi allora qua che cos'è che non va allora che cos'è che non va qua manca proprio la curva e la curva si fa con il binario classico allora manca la curva ma è anche tutto spento quella non la riesco a mettere perché c'è questo qua allora questa l'attivo poi questa come faccio ad attivarla mi prendo una leva vorrei metterla qua l'attivo attivo attivo questo ora vi vengo a vedere via ok andate qui vediamo qua cos'è indiani alla gra qualcuno mi ha tirato perché c'era questo qua dietro quindi funziona bene questa attrazione mi raccomando non prendete quelle in movimento che sto riparando perché diciamo sono quelle più impegnative che ci hanno chiesto di riparare allora questo lo distruggo faccio così vediamo adesso questa diventa mobile ma che bello questo treno ok ne vedo un'altra qua qua manca la cosa addirittura allora freno frenato ok metto l'armatura lo vesto metto anche i pantaloni quando attivo il tutto e ti do una spinta il binario dovrebbe caricarsi in automatico l'armatura perché non lo fa ah ecco non gli piaceva poi questa qua questa qua a questa invece gli manca il carrello quindi proprio tutto l'incontrario vediamo no questo era già attivo quindi ti spingo preso vai rodeo rodeo allora rodeo qua che c'è che non va questa è messa malissimo perché qua non l'attiverà mai quindi distruggo questa faccio così distruggo questa così questa la tolgo no ho sbagliato allora questa la metto qua questo lo giro perfetto poi tu vai un attimino di qua per favore ok questo lo mettiamo qua leva attivato dovrei aver attivato anche il rodeo e adesso vi vengo a vedere però mi sono perso questo qua che non ce l'ho più attivo allora quindi questo adesso lo attivo tutto attivato guardate questo effetto del rodeo con la armatura che si abbassa proprio qua sotto guardate uno due tre via che si abbassa perfetto allora dove siete voi ancora lì a giocare immaginiamo passiamo qua sotto vediamo un po' via non mi vedrete eccoci ok avete ammazzato tutti perfetto ottimo quindi la giostra funziona funziona bene adesso direi di tornare a sistemare i nostri cavallucci qua vedo il classico teletrasporto mai visto prima vi aspetto così ci siamo tutti veniamo anche chiara macchinine questo mi piace macchinine allora firmo vediamo si chiama macchinine firmo questo libro lo butto a terra siete vicine via magari ci porta qualche cavallo no siamo sempre solo noi perfetto allora circuito elettrico allora io vado direttamente dentro a questo punto vado direttamente dentro ditemi se funziona qualcosa perché qua qualcosa è acceso qualcosa no però se io spengo questo allora questo è un classico funzionamento della torcia di redstone quando è attiva viene attivata e posizionata sopra un blocco questa si attiva quindi quando riceve energia si disattiva quindi io adesso sto spengendo questa è ancora accesa ok questa funziona allora queste qua sono alimentate da diversi circuiti quindi questo lo devo disattivare e se è spento però queste sono ancora alimentate da questo filo quindi lo spengo sono ancora alimentate da questo filo che alimenta anche questo queste sono accese mancano quasi tutte infatti aspetta manca l'ultima perché questo spenge queste manca l'ultima manca l'ultima manca l'ultima questo adesso dovrebbero essere tutte accese ok ci siamo perfetto sto arrivando aspettate mi prego non andate via non mi lasciate solo allora allora io direi Manuel vedi un po' se c'è qualcosa partenza tra tra partenza tra 3 2 1 proviamo via chi è che parte via vai 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 allora Patrizia è ultima Manuel in estremo vantaggio devo fare tipo come fanno i corridori il commentatore allora Chiara che ha rubato allora non capisco perché Patrizia mi sta superando ho un vago sospetto allora se ci fate caso il circuito sembra essere uguale ma quando facciamo le curve più strette io recupero su Chiara per esempio adesso però faccio un giro più lungo e Chiara dovrebbe allungare in effetti se passo all'esterno perdo terreno e infatti Chiara sta allungando e Patrizia sta recuperando ma è forte questa cosa allora quindi funziona come nella realtà se io faccio allora voi avete tagliato però eh bravi i nostri furbacchioni bravi bravi Patrizia sta recuperando tantissimo però se mi provi a superare sai che sappi che ma tu stai proprio dietro di me sappi che cioè Patrizia sta attaccata a me oh ma che ma come ti chiamano proprio un una pilota proprio aggressiva uno stile aggressivo invece Chiara zitta zitta cammina Chiara zitta zitta cammina e arriva a meta non ci c'è allora Manuel non so come ha fatto siete usciti allora sicuramente io arriverò prima di Patrizia non arrivo prima di Chiara perché mi sto portando dietro una roulotte ed ecco perché vado più piano perché in due si corre di meno allora poi Patrizia mi spiegherà cosa ha fatto Manuel ormai Manuel sta camminando con il freno a mano perfetto ma poi avete barato ed è giusto che Chiara niente Chiara ha vinto il traguardo è vicino ultimo io secondo complimenti Patrizia poi mi spieghi come ha fatto terza quarto e ultima Michela vabbè Michela perché va piano però chi va piano va sano e va lontano a questo punto direi direi di andare da qualche altra parte per esempio qua ci sono di nuovo i distributori delle nostre macchinine allora io non vedo niente ok ci siamo Manuel vai ci siamo tutti c'è anche Patrizia no Patrizia non c'è soffi delle macchinine Patrizia soffi delle macchine ah no ci sono ok ok vai allora ci dovrebbe essere anche Patrizia qua il nostro Speedy Gonzales in formato macchina e si guidano veramente bene posso anche deravare così via aio perfetto dove siamo andati nella Viking Park qualcosa del genere c'era una Viking nave una battaglia navale siamo arrivati deravato di Manuel siamo un po' in ritardo ma noi ci prendiamo tutto il tempo allora indicazioni per la riparazione l'acqua ha smesso di scorrere in cima prendete i secchi allora prendiamo i secchi io mi tolgo un po' di roba perché sto veramente carico come allora qua vedo dell'acqua vedo dell'acqua che trasuda da questa cima ma più che trasuda qua mi sembra che ci sia veramente veramente un buco pillager pillager allora attenzione maneggiare con le dovute precauzioni non toccate i fili attivi con le mani bagnate in effetti queste sono una delle precauzioni più importanti che vi deve passare in mente quando c'è della corrente in giro sempre in sicurezza evitate di mischiare acqua con elettricità allora poi qua che c'è materiale ok pietra vetro allora questo mi serve sicuramente per tappare la falla tappo la falla ok sopra poi qui adesso ci posso lavorare qua ci metto pure il vetro non si sa mai se dovesse poi poi riparo qui poi allora vediamo quali funzionamento è questo faccio così i pistoni escono allora a questo punto direi incominciate a mettere tutta l'acqua riempiamo d'acqua tutto perché a questo punto io direi che è proprio il caso di di farci questo giretto questo è l'attrazione che peccato dobbiamo testare questa attrazione ok voi intanto montate io non vi faccio lo scherzo è l'acqua cioè aspetta Manuel perché perché vai Manuel vai 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 l'acqua è arrivata tutta completamente vai Manuel vai tranquillo fidati di me fidati di me vai vai Manuel vai 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 a raccogliere le ossa di Manuel eccolo poverino Manuel vedi che Manuel c'è caduto vai 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 Patrizia chi è questa Patrizia ma tu sei così spericolata vai che adesso vi si mette in moto che fai freni vai vai eccola chi è questa Chiara Chiara via allora io a questo punto vado o a recuperare Michela che si è persa ah ma vedi ma Michela va proprio piano piano ah ma avete rubato proprio le barchette brava Michela che me l'ha distrutta ma volete proprio ma non è che siete voi villager maledetti ho capito qua c'è qualcuno che mi rema contro a proposito di remare allora allora mi metto F5 che non vedo trada trada chi è che è pronto con me a vomitare attenzione attenzione carico carico vi aspetto si aspettami se arrivo però perché qua la vedo tragica addio addio bello carico Manuel ma tu ci aspetti intero o a pezzettini perché un po' di ossa mi sembrava che fossero a pezzettini però bello scherzo non è che su Minecraft questi scherzi vengono eh è diventato buio sarà finita la nostra avventura no speriamo di no allora io sto arrivando grazie Michela dell'affondamento io scendo a questo punto grazie grazie Michela andiamo via 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 passiamo di qua però siamo in creativa dove dobbiamo andare ruota panoramicraft guardate che bella questa giostra peccato non si muova perché sicuramente non girano le giostre io direi che qualche giostra potrà girare abbiamo qualche qualche idea in programma sul canale youtube a scuola con minecraft ve l'avevo detto allora camminiamo un po' più veloce sono le 53 adesso a questo punto potete cominciare a buttare l'acqua della pasta perché abbiamo quasi fatto però questa questa ruota è spenta e non vedo segnali allora indicazioni il pulsante che aziona la ruota sembra non funzionare ma si vede perché poi è pure diciamo tutto spento allora faziono non succede niente non succede niente perché qua come vedi come puoi vedere è tutto messo al contrario e bravi i miei villager o michela ah no scherzo michela non è una villager allora questi devono avere un verso quindi va di qua va di qua questo fa così fa così fa così e questo è messo all'incontrario allora io ho azionato tutto vediamo se funziona taradatta bellissima la nostra ruota panoramica da paura bellissima accesa sto volando a tutte le attrazioni sono state rivarate grazie esperti di redstone e guardate che metto proprio qua sopra per vedere gli effetti e il sonoro veramente bellissimi per fortuna una giornata senza villager a meno che non scoppi qualcosa di ok i fuochi d'artificio allora bellissima mi è piaciuto questo missione ora sono le 11.55 ma noi andremo avanti ad oltranza perché abbiamo bugato le nostre macchine all'inizio e quindi adesso dobbiamo recuperare allora scrivo costruzione e butto via se ti interessa sapere questa cosa qui canale youtube allora siamo nel parco della costruzione allora prima cosa che dobbiamo fare e vi chiederò quindi come diciamo come sfida costruite un parco di divertimenti perché il divertimento è alla base io non sono un bambino ma sono un adulto che si diverte ancora e per fortuna da bambino quindi vi chiedo vi chiedo di non perdere mai il divertimento ok non abbandonate mai il vostro divertimento e quantomeno la vostra creatività e costruite ok nella vostra prossima sfida un parco giochi io adesso sto velocemente costruendo qualche cosa del genere mi faccio una struttura d'appoggio mi sto perdendo dei pezzi ok metto dei cancelli ok se fate un qualcosa del genere ok con i cancelli a supporto no aspetta questo devo mettere così e così questo lo metto così così sopra ci mettete i cancelli ok il disegno che ne esce fuori è veramente veramente simpatico come questo che state vedendo ora mentre Manuel Patrizia Michele e Chiara costruiscono la loro il loro parco di divertimenti vi faccio vedere anche delle immagini di altalene ok mettete pausa quando vedrete la registrazione oppure di guarda guarda un po' questo cerchio che sembra una ruota che gira ok una sorta di parkour fatto in questo modo semplicemente con recensione e lastra di rovere io vi racconto un po' dei funzionamenti dei binari allora all'interno di questo distributore ho messo dei vagonetti c'è un pulsante è messo ad una certa altezza questi binari non sono alimentati ok per gravità io spingo questo viene generato lo spingo per gravità scende prova a fare una piccola risalita ma niente non ce la fa perché non ha diciamo spinta a sufficienza vediamo che succede posizionando un altro distributore ad un'altezza minore questo scende ovviamente a una velocità differente non riesce neanche arrivare alla curva ecco riesce a malapena ad arrivare alla curva quindi in effetti più in alto costruite i vostri diciamo binari non alimentari più velocemente il vostro carrellino il vostro vagonetto corre come si fa ad alimentare e a far correre sempre un vagonetto allora dovete utilizzare il mi voglio un attimo togliere tutto faccio così butto tutto via 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 faccio un po' di spazio così ok allora mi prendo un binario alimentato lo metto qua quando lo posiziono è spento quando è spento il binario alimentato ok questa leva stazionando questo blocco che in effetti vedete si illumina e di conseguenza il diciamo il raggia anche tutto ciò che è adiacente questo binario è adiacente e si accendono tutti ok ora io lo spengo quando sono spenti adesso qua sotto c'è un binario alimentato come in questo caso ok io clicco il pulsante si accende spinge il tutto quando è spento funziona esattamente come un freno ok io lo avvio via prende la rincorsa e riesce quando alimentato a spingere il carrello in avanti quindi clicco il pulsante pulsante se vogliamo fare un circuito che si muove sempre ovviamente questo carrello deve rimanere questo binario deve rimanere alimentato come in questo caso adesso il carrello va avanti e indietro in continuazione intanto vedo le costruzioni che stanno facendo i ragazzi bellissime anche una sorta di trampolino vedo un'altra cosa particolare dei carrelli che tanti diciamo non conoscono è il binario attivatore il binario attivatore è molto particolare perché quando è così il carrello alimentato me lo porta il carrello il binario attivatore non fa niente di particolare e se qualcuno c'è dentro ci finisce dentro se invece adesso spengo questo così non mi spinge in automatico metto il carrello ok questo lo metto qua e ho alimentato se invece alimentassi questo binario attivatore vado dentro e mi spingo mi muovo quando io passerò scusi si dica si può togliere un maialino ok quando io mi sposterò quando il maiale si sposta in automatico non sto facendo niente verrò scaraventato fuori dal carrello ok quindi questo serve per buttare fuori per scendere in automatico ecco perché ho messo la lava ha anche un altro funzionamento con la tramoggia però ve lo spiegherò eventualmente in un canale youtube perché abbiamo fatto un po' tardino però però bellissimo quello che state costruendo guardate che cosa ha costruito chiara manuel con gli slime ok perché se costruite un parco di divertimenti gli slime non possono non far parte del vostro parco quindi se io scendo via salto e riesco a salire butto di qua no sono sceso dalla scaletta non ho saltato vediamo un po' se io faccio così salto via e qua servirebbe qualche scala per ripotersi riagganciare ok poi 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 a questo punto vi faccio vedere un'altra novità che è in uscita nei prossimi nei prossimi video e che secondo me ci può essere utile allora io mi devo dare un command block give chiocciola s command block ok lo voglio posizionare qua a terra così non mi sbaglio perché io mi ricordo spesso di zone tipo delle gabbiette però non mi piace il termine gabbie soprattutto non piace a patrizia dei contenitori per ragazzi in cui ci sono le palline ok adesso io vorrei fare questo contenitore a forma di sfera ok se io oggi dovessi fare la sfera a mano ci vedremmo direttamente al pomeriggio per merenda ma io invece utilizzo i command block e faccio execute caro command block tu ti metti nei panni del giocatore più vicino che sarei io e esegui questo comando che cosa? metti un blocco set block a no non questo qua mi serve questo carattere ok a una distanza di 7 così la facciamo prima mi metti stained glass ok il colore 10 dovrebbe essere il viola dovrei aver scritto il comando giusto faccio no aspettate prima mi tolgo mi metto esattamente sopra qua ok poi non mi sposterò più da questo punto ripetizione guardate vediamo se sono riuscito a non viene perché non viene set block perché execute mi metto nei panni del giocatore e non mi sta avvenendo stained glass 10 perché non viene esito precedente pietra rossa è sempre attivo se magari lo attivassi funzionerebbe adesso sto fermo su questa cosa non mi muovo più incomincio a fare quello che state vedendo sto disegnando con lo sguardo ok e lo faccio velocemente ok guardate cosa sto costruendo sto girando ok e nel frattempo vi chiedo a Manuel e agli altri tanto non mi darete fastidio di costruire dello slime sotto la sì diciamo all'interno di questa che sarà una bella sfera ora vado più veloce lo so che pensavate che ci mettessimo tanto ma io sto girando e sta disegnando il mio chiara ammazza che lavoratrice che sei proprio ti metti là che guardi mi sembri che bravo vedi lavoratrice proprio allora ce l'ho quasi fatta se vi gira la testa potete anche dirmelo su Instagram grazie Marco mi hai fatto girare la testa però il mio intento era quello di farvi vedere che le sfere si possono costruire in poco tempo ce la farà ce la farà il nostro eroe a parte la parte superiore la potevo pure fare a mano ne mancano due 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 fatto io ho fatto devo disattivare tutto perché altrimenti qui pieda rossa necessaria esco da qui incominciate a colorare a fare quelle palline no ok guardate che cosa abbiamo costruito in forse due minuti ok una sfera ovviamente se io prendessi questo codice e facessi ma se non si riesce più a camminare me lo copio ok io farei tutto ok allora farei così guardate allora prenderei lana prenderei lana faccio uno due tre quattro ok non prenderei sicuramente l'oro non prenderei l'oro e metterei prima sopra i cosi prima metterei questi poi dopo metterei il tappeto perché altrimenti il tappeto presta i pro ok ehi qua è venuto il il robottino di patrizia e poi farei un unico colore per esempio il celeste e queste sarebbero le nostre palline allora vi faccio vedere che se io mettessi sopra di me per esempio vediamo un po' se riuscissi a farlo qua sopra ok vi lancio anche un'altra sfida set block dove sto io ci metto grass grass ti prego fai il grass grass sotto di me a fianco ci metto questo blocco lo attivo ci cambio colore metto il 14 che per esempio anzi 0 ci metto 0 che è trasparente ok lo devo attivare però sempre attivo ok adesso in altezza ovviamente io riuscirei a fare proprio una sfera completa dal basso verso l'alto ora vi faccio soltanto diciamo i contorni di quello che dovrebbe essere una sfera vediamo se riesco sono riuscito poi da qua in alto vediamo metto qua ecco farei così questo lo faccio ehi dai un po' così ecco le sfide che vi volevamo vi volevamo lanciare ok questo lo disattivo comunque il concetto è che vedete che diciamo ho creato la base di una sfera in due secondi le sfide che volevamo lanciarvi sono quelle di un parco giochi oppure delle montagne russe e udite udite un qualcosa ovviamente con la pietra rossa questa è l'ultima cosa che costruirò per oggi per fortuna siamo rientrati in tempo vi voglio far vedere questo meccanismo molto utile allora scrivo pietra rossa che utilizzo spesso nei miei diciamo circuiti e mappe allora mi prendo una un pulsante perché non fa mai male una torcia un blocco e poi sì un qualunque blocco di questo tipo questi non mi servono più non mi servono più io volevo prendere anche una leva una leva 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 ok allora questo circuito che stiamo costruendo si chiama nel gergo tecnico si chiama end cosa significa un end significa contemporaneamente immaginiamo che la traduzione nel gergo tecnico è contemporaneamente queste leve posizionate sono disattivate io faccio così vanno verso qualche cosa questo qualche cosa sono tre blocchi ok sopra ci metto questa pietra questa torcia faccio così queste le unisco questo è il modello che dobbiamo replicare metto una bella lampada 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 di pietra rossa ok la sfida adesso vi faccio vedere come ne costruisco quattro e voi dovrete arrivare a costruirne cinque allora che significa l'end queste sono spente ne accendo una questo non funziona si è spenta questa quindi la lampada si accende quando contemporaneamente end il contemporaneamente queste due leve vengono azionate una accesa non va bene una accesa non va bene tutte e due accese vanno bene ok ora dico ne aggiungo la terza metto una leva a terra che è spenta come ampio il circuito faccio così metto così qua in alto nella zona in cui sbatte la pietra rossa metto la lampada unisco le due lampadine ok qua ci metto la torcia è spenta perché questa qua è accesa prolungo ovviamente questo lo devo distruggere e dobbiamo rifare la stessa cosa che era in precedenza quindi così 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 questo lo uniamo uno due e mettiamo la pietra rossa questo ovviamente è sbagliato perché quella non si doveva accendere ok ora tutte e tre spente la lampada raggiù non funziona accendo una non funziona accendo due non funziona accendo la terza se sono tutti e tre accese allora si accende ok facciamo la quarta e voi dovrete fare la quinta metto la leva la leva la spengo metto questo unisco fatto così perfetto qui metto la lampada no manco ci prendo così così questo allungo ripeto la cosa che abbiamo fatto in precedenza a tre quindi è come una sorta di piramide avete mai sentito parlare di piramide in questa sessione in queste sessioni io direi di sì allora uno due tre ultimo step qua qua qui unisco uno due vediamo se adesso non si accende perché tre sono accesi la quarta si accende si accende cosa vi servono queste cose immaginiamo che noi siamo io michela patrizia e manuel ok che siamo in quattro punti differenti e dico allora è al posto di questo per esempio c'è un pulsante io da solo non riuscirei a farlo ok perché dovrei fare uno due tre quattro no ok invece noi ci mettiamo tutti e quattro qui vicini ok e puntiamo ok facciamo allora vediamo aspettate che non vedo molto bene la lampada facciamo così così la lampada si vede sicuramente meglio ci metto un ripetitore di pietra rossa ripetitore così sbatte e siamo sicuri che lo vediamo per bene ecco fatto adesso pronti al mio tre quindi uno due tre via cliccato abbiamo cliccato tutti e quattro ok siamo pronti ripetiamo uno due tre via eh però qua siamo siamo lenti eh allora uno due tre via perfetto e si è accesa perché tutti e quattro abbiamo completato e cliccato contemporaneamente oppure immaginate che io sto da solo in un mio mondo e ovviamente questi blocchi questi circuiti stanno nel primo livello e io completo il primo livello lo aziono ovviamente le torce non starebbero vicine ma sarebbero uno per esempio laggiù una da quell'altra parte ma il circuito riesce ad arrivare fino a un certo punto quando faccio il terzo e il quarto quarto livello missione completata completato fuochi d'artificio fuochi d'artificio che vi faccio vedere come riusciamo a farli ehm esplodere Manuel se mi prepari un distributore con fuochi d'artificio vicino lo facciamo prima allora mi serve pietra rossa un comparatore il comparatore di pietra rossa non ve lo spiego oggi però il ok va bene così il comparatore compara quello che c'è dietro per esempio vediamo qua ve lo faccio vedere al volo mi prendo un distributore al volo c'è dentro qualcosa ci metto un oggetto di tipo gambiera il comparatore messo qua siccome sa che c'è qualcosa dentro se ne accorto ci dice che si accende se io lo tolgo si spenge ok quindi lui si accorge di qualche cosa ora quando io ehm cortocircuito cioè faccio entrare lo stesso circuito all'interno lui si comporta in un altro modo ci sono qua i distributori mettici fuochi d'artificio però mettilo verso l'alto perfetto perfetto allora per avviare il tutto devo cliccare qua perché in questo modo il comparatore si comporta in un modo differente cioè tutto ciò che gli arriva a destra e a sinistra lui lo sottrae al segnale che gli è arrivato dietro a voi basta sapere che quando creo questo circuito e lo attivo questo in continuazione fa e sollecita in maniera continuativa il nostro distributore diversamente se non l'avessi attivato in questo modo ne sparava uno e basta quindi costruite questo circuito magari ci mandate anche una foto quando tutti i fuochi esplodono al centro ho capito dove sei andato a prenderli Manuel a questo punto raggiungetemi andiamo un attimo al Luna Parkour alla ruota perché vi salutiamo con un bel lancio dall'alto se ci sono gli slime sotto intanto magari sì, volevo fare un bel lancio da questa parte allora, qui, forza slime, un paio di slime voi intanto andate là sopra che io vi raggiungo subito che già ce li ho, lo slime come si chiama lo slime? mannaggia gelatina ok, Manuel ha fatto prima ok, a questo punto via se riuscissi a volare ok, a questo punto vi lasciamo con questo salto in alto Patrizia che fai? che c'è paura? allora, mettiamoci qua vediamo se funziona questa qua ma voi non ci siete Patrizia, Michela? ah, ecco ci sono vai, 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 vai ah, mi siete già buttati allora uno, due, tre via andato, mi butto via ok quindi funziona anche l'effetto gelatina a questo punto mamma mia mi fermo a questo punto vediamo cosa vi dovevo dire per salutarvi perché veramente a questo punto siamo andati oltre immagino vi abbia annoiato come al solito allora, vi ricordo vi ricordo i canali social vediamo se mi riuscite a vedere con così dovrebbe essere vediamo se torno con la mia videocamerina ok, l'ora di pranzo allora vi ricordo canali YouTube che qua non leggete ah, sì sotto la mia telecamerina a scuola con Minecraft il canale YouTube o Instagram per mandarvi i vostri lavori le sfide di oggi parco giochi sì, mettetevi alle spalle Chiara così vi vedo ok no, forse davanti perché sto così mettetevi così mettetevi di fronte a me rimanete lì vicino a Manuel ok sfide di oggi parco giochi perché il divertimento è fondamentale nella vita creatività e divertimento quindi noi ci dobbiamo divertire con Minecraft ci divertiamo sicuramente e impariamo tante cose come avete visto parco giochi montagne russe e risolvetemi la sfida della quinta leva secondo l'end tipico della logica viene detta logica booleana vi servirà tantissimo nei mondi Minecraft che andremo a costruire anche nel canale YouTube a questo punto vi saluto ci vediamo sicuramente mercoledì prossimo aspetto nuovamente le vostre creazioni io penso di aver detto tutto mi metto in pausa sì i ragazzi vi stanno salutando e a questo punto vi saluto anch'io buon pranzo e a mercoledì prossimo ciao ciao